Ehi la, salve a tutti, sono ThePin96 e benvenuti in questo nuovo episodio di prima impressione e recensioni con WitherBoy Sì, ma aperti, perché non capisco Eh, non capisco, e siamo su Minecraft Dungeons Allora, ho fatto il personaggino, ho fatto statizia un po' così E... Parliamo fare il tutorial, vero? Sì, mi sa che ci tocca fare avviapartita online Aspetta, ma se l'avvio io ti puoi unire, guarda se t'appaio Eh, l'ho avviata anch'io per sbaglio Ah, ok, vabbè, dopo capire che Costa Calamara Calamara Vediamo un po' come, io so molto... Oh, è il filmino? Relaggio in fiamme, è senz'altro l'opera del malvagio arciabitore Vabbè, non c'è bisogno del tuo... Capito, doppiavo Guarda che bello che è Vabbè, Minecraft è l'infanzia Che fordì, eh? Vabbè, l'infanzia Adolescenza Vabbè, l'infanzia! Ah, così, già finito il filmino Dimmi qual è il... Come si muove? Ah, come Diablo, ok Diablo, ah sì Ok Posso invitare? Ehm, non ancora Trova il traguardo, segui l'indicatore di navigazione per raggiungere il tuo traguardo attuale Ah, quella è la Frischin Ok Oddio Oddio, oddio Che è? Eccoci Oddio, zombo È morto? Ma easy Oddio, la cobblestone The cobblestone? Oddio, c'è uno zombie abbastanza pagato Oddio, è facile però Adesso? Eh, adesso Guarda qua Mamma mia che pro Sono un po' ipato Ehm, pizzico Allora, dove c'è un deadlice? Vado da qua? Ma non c'è sta... Le frecce, che fanno queste frecce? Posso tirare... Già le frecce si è arrivato Eccole qua Oddio, schifo La E è l'inventario, easy Ah, la E che ho fatto? Ah, mi sono curato Ok M M è la mappa M è la mappa? Sì Aspetta che mai pizzicano I L'inventario Ah, molto Semplice l'inventario A me piace Vabbè, già si può notare Dato che È lo stesso genere Lo possiamo comparare Rispetto ad un Diablo Un Torchlight C'è poco da equipaggiare Cioè c'è Spada, arco E penso che sia lo scudo Questo Dove c'è C'è anche incantesimi Sotto? Di Minecraft Sotto pure le pozioni Ah, le pozioni Sono stronzata Vabbè, l'incantesimi Mi deludi Mi deludi Tu mi sottovaldi Amico mio No, no Oh, c'è una chest Dov'è? Ma tu corri Oddio, che è sto nemico strano Corro Per giusto Ah, la chest Ah, frecce Al panino Mi ha detto Da te Eh, vabbè Ma quanto dura Il tutorial Non penso Ah, il pane Non lo puoi Tenere Lo devi mangiare Cioè, te lo mangia subito Ok Il pane Sì, ha trovato il panino Nella chest Ah, il panino Sarebbe tipo Pozione istantanea Che fa? Oh Ho chiuso? Chi? Il mago mago Sopravvivi Il boss De già Ah, ma questo è il cattivo Ah, lui? La iniziale Sì, sì Mago mago Aumento di livello Punto incantesimo Ottenuto Unimento di livello Ti offre un punto incantesimo Utile per potenziare gli oggetti Apri l'inventario Per provarlo Ma vedi che ci stanno Seleziona l'oggetto Il tuo convergimento Ok Ah, nuvola di veleno Distruzione O saccheggio Ah, se click it dice Nuve di veleno A 30% Possibilità di evocare Una nuvola di veleno Confligge danni ai nemici Va bene Aumento i danni Contro i non morti Più loot Più loot Si è fatto Ok Non è più loot Scusate È saccheggio Saccheggio se dice Si chiama Ah, poi Ah, una volta Si, ho l'arco La spada Si, cava doppato Ero colto Frecciapirga Manufatto nell'inventario Puoi clicco Mentre il tasto destro Per equipaggiare Ah, vedi Che cosa va sotto È andato sotto Cosa? Ho deciso delle pozzoncine Boh, un oggetto Mi stai Triggerando Usa il manufatto Ora che è il manufatto E equipaggiato Puoi utilizzarlo quando vuoi Uno, due, tre Tanto chi ne frega a lui A se capisce lui Ah, lo provo così Sboom Se ne frega di me No, io me ne frego tanto di te Eh, non vedo Eh, non vedo C'è il manufatto E come vado A prendere sta chest Cazzo è stato mal fatto Spada di legno Sconfidire 50 creature Ma che dice? Ma non ne ho uccisi 50 Abbiamo ammazzato i 7 Come si va da là? Ma posso piazzare blocchi? Tipo Come? Ah Ah Con spazio Ha schivata Non hai capito te Ci sei arrivato ora? Eh, ho capito Sei un po' Rimpidini Oh, vi picchio tutti, eh Ma queste sono più resistenti Mi piacciono Ma vedo che ci sono anche le combo No Vabbè, tipo Ah, sì, sì Se fai shift come diavolo Ti cosa da fermo Eh, sì Oddio, l'acqua è bellissima Che forti Io esploro E qua? Che trovo, i segreti? Oh, a pecorella Di Mahmood A pecorella Vado, ma che sfinta E qui? Guarda che trovo i segreti, eh Vittoria Io ho finito Come è finito? Questo fa esplorare Eh, sì Vabbè, non c'è sta niente Oh, ma perché si incastra? Accampamento Sono l'accampamento, boys Ah, già? Quindi Ah, vittoria 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 E muovete pure Grazie Sono l'accampamento Che vorrei di loot A me non me l'ha dato Canna da pesca E basta Non me l'ha dato Ah, ma beh, sì Ah, ma l'accampamento Ah, loot Ok, adesso ti posso invitare In teoria Sì Però non ci sono gli altri Ah, canna da pesca Eh, no Penso che sia Come si tisci? Ah, amici F A me non potremmo fare La lobby Tutti Ah, posso unirmi da te O tu ti unisci da me? Ah, o ti invito Invitami, invitami Ah, tu Invito inviato Ah, certo Vai, fatto Sto arrivando Capito qual è il motivo Il senso Che Allora, la lobby Potremmo fare un po' Online tutti Capito Attenzione Eccolo Selezione la missione Invia messaggio agli amici T No Eccoti Eccoti Non credo È carino però È più bella Ico Che belli rossi ovviamente Eh sì Fa questo Ah, tipo Per provare Le combo Ah, è questo per la spada invece Vabbè, spreca No, non si spreca Non si spreca Non si spreca Ma Ah, seleziona la missione Femi M Ui, bello Sembra grande la mappa Il resto di Creepers Vado Non ci stacca più un cazzo La via missione Aspetta Se può scegliere la difficoltà Ah, facciamo normale Adesso non ci abbiamo un cazzo Fra Normale 3 No, domanda 1 A 1 Eh sì Vabbè, 2,7 Lo dice, vedi Potenza di un cazzo Ah, 10, 4, 1 Potenza di squadra 1 Dannamo Ah, giusto Ma faccio 1 Ah, se accetti Skippa veloce Forse di Creepers Oddio Creepers Ma esplodono anche qui Eh, credo di sì Eh, credo di sì Ma come funziona È come, come Normale Ti avvicina Ma Pss Pff E' fine Come funziona Ho capito Eh, mi tilti un pochetto Un pochetto Ho capito Ma lì Esplodono i blocchi Ah, filmino Ma che parola di 80 80 Ma io non ce l'ho il filmino Scusa, adesso è ok Ok Ho detto ok Si, si, si Basta non pula F Che vuol dire Che vuol dire È gay Perché non c'ho il filmato io Vabbè, non è che dice niente Ti dice Vai in fondo Libera tutto Ah, ma forse è perché tu sei Il capitano Lost Il capitano dei capitani Servono frecce Ma che vuol dire Anche a te Attendi Andiamo Aspetta No No Andiamo E vai Oddio, zombo Oh Oddio, esplodo Oddio Non lo so Che fa? Che faccio, esplodo? Ma che? Ma che paura, senti? Oh 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 Inquietante sta cosa Ah, guarda con tabs Cos'è? Mela è mia Guarda tabs Oddio, questo è potente Ah, è la mappa, è la mappa, è la mappa Ah, figo Ah Occhio Ma tu la mela la vedevi? Sì E quindi il loot non è... Cos'è? Che hai fatto? Sono diventato strano Quindi il loot non è... Non è individuale Questa cosa... Questa mangiata Non so Vedi, vedi? Vabbè, ma magari se lo prendi tu lo da anche a me Magari non l'abbiamo notato Non lo so Ma io quelle cose che ho preso, dove ce le ho? Eh no, credo che siano utilizzate istantaneamente, sì Aspetta, metto la canna alla pesca sotto Che fa? Te, 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 te grabba Ah, è tipo blitzcranks? Guarda Guarda E non va Non fa E' finto Mi ha mentito Mi ha mentito, sta venendo... Oh, guarda qua Che è? Hai esordi Le hai presi anche tu? Sì Ok, quindi è... Dovemmo capir, col drops Il prossimo drop Tutti quanti sono? Aspetta Oddio, è bellissimo Sì Cos'è? Ah, questa è una missione... Ah, forse dobbiamo liberare i villaggi Secondarie avevo, no? Ah, forse O forse favo quella missione No, trovate la carovana La carovana Oh, mi piace Fai attento le frecce perché non è che sono infinite Ah, qui? Ah, guarda, nascosti, eh Bastante Ma qui, Gemma, che ce fai? Eh, sui soldi, credo Eh, che ce fai? Eh, boh, ce comprerei qualcosa Non sei un cazzo Che ne so, ho aperto la prima volta Oh, picchia una pecorella Oddio Oddio No, ok, la mela non me l'ha data a me Ah, eh, ok Ah, bisogna calcolare Bisogna calcolare Questa è più forte Ci vedo Tipo, che è sto tesoro? Fastidio quando le cose non le so Eh, vabbè, sarà loot Forse a fine missione Da qualcosa Non lo so Ah No, non è vero Che cosa? Perché se premiamo è scritto Segreti trovati Uno su cinque E non so come cazzo abbiamo fatto E poi ci sta Forza di Avertizzo su nove È un po' stinks Un po' stinks Qui ci stanno anche i segreti E mo' mi viene da esplorare però È un cazzo Trovali E trovali tu Imparali Impara Oh, guarda che bella sta statua del pene Dov'è? Che cosa è il pene? È il creeper Il pene Il pene è l'opercruz È troppo easy È easy, ti ho detto che è easy Oddio, creepers Oddio, creepers, sono caduto Oddio, oddio Ah, ok, ok Ah, però esplori, vedi? È come normale Però allento Ma io come ho fatto? È soccato tutto Non esplori Che hai trovato? Eh, mi è esploso Mi è esploso Mi è esploso in faccia Non so, io sto andando C'è una lunga via di qua Però, sai che non mi piace Che si vede tutta la mappa subito? In che senso? Eh, guarda Se prendi in tab si vede già tutta Oddio, oddio A me sì Cioè, non è evidenziata Però c'è Ma in che senso? I sordi Non ho capito Ma questo è un Dungeons? Sì, ma rispondimi Oddio Lei non mi risponde No, eh, cos'è che è successo? Che cosa? La posizione è veloce Che cosa? Eh, non mi ricordo Qualcosa ho detto Eh, ma qua i randi Si sparano dal culetto Eh, un po' Bello il Dungeons Sì, ma non ho capito Ma cos'è che avevo detto? Non mi ricordo Fila della mappa Ah, ok Vedi che c'è già tutta? Se premi tab Anche qua dentro Vabbè, secondo me Oh, la metto in livello Ma da come si vede in livello La sbarra di esperienza? Eh, penso sia Dove c'è scritto Livello 3 in basso Sotto al core Devo aumentare la spada allora La spada Ah, è vero Sa che Eh, però vorrei mettere all'arco Colpo ritardato Alcuni colpi contengono Una certa temporale Fuoco rapido Aumentare la velocità d'attacco Yeah, baby Ma io non ce l'ho Quei funzionamenti Ma sono casuali? Eh, mi sa che sono casuali Ognuno c'è proprio Oddio, guarda come spara veloce adesso Pozione di forza Per l'altare Ah, sono più forte Io prima ho preso quella Veloce Oh, soldi Prendi, prendi E prendile pure te Ok, ho dietro Oddio Fisi Vediamo a piano Sono scatenato Sono scatenato Sono scatenato Forma d'ombra Posso vedere che cosa significa? Posso buggare Poi devo andare sulla wiki Eh, me sa pure te Eh, me sa pure me Me sa pure te Oddio, sono tanti però Questo è proprio nel chilling Sto gioco Sì, perché è più leggero Secondo me Di un diablo Però È carino Eh, io spero che non faccio Tipo alla fine Ciao, core Come Come la fine di diabo Che diventa ripetitivo E vai Allora, quanto ho spada? Che senso? 10, 17 danni Allora, allora Sono individuali Cioè, io non l'ho presa Cioè, non l'ho proprio Non l'ho presa Ah Venga, fa Eh, abbiamo finito Possiamo uscire No Io vedo tutta la mappa No, qui tipo Che fa? Marco? C'è tipo un boss Mmm, no Mi sa No Eh, no, però dobbiamo andare Però dice C'è il pene Ah, no, vedi Ti dice Riusci Che fa qua Ah Ah, è vero Ma se andiamo di qua Che c'è Io qua ce lo grigio Pur io Cos'è? Cos'è? Che è? Io Ho creduto Se trovare Vabbè, non capisco Eh, non capisco Vado Che c'è capito Oddio, sono entrato Per sbaglio Aspettate qua C'è ancora pizzica Che per di Sono rientrato Ehi Ai Ho visto Oddio No Che fa, tira Però tu hai messo le frecce Ah, un altro Qua? Cosa? Hai messo le frecce più grosse No Guarda quanto sono grosse E mi sono piccolette Eh, bello Eh, voglio mettere Oddio, oddio, oddio Oddio, oddio, oddio Aspetta Però non ci sono le abilità Cioè nel senso No, ci stanno le abilità Vabbè, quello che fai Boom Vabbè, ma ci stiamo nelle start game È nel end game Abbiamo già finito Mi è uscito Aspetta, aspetta Guarda di quanto Ah, non è una pozione È una forza Mi sono forte Vabbè, ma è comodo Che hai una classe Sia corpo a corpo Che a distanza Integrata Eh, sì Per quanto ho capito Non ci sono le classi Ma ci sono Eppeggiamenti Eh, esatto Senti zombie Io sono curioso Dei boss Cosa mettono Cioè, tipo il withers Eh, magari Eh, magari a te Ma io spero Che non l'abbandoni Nostro gioco No, secondo me no Col successo Che a Minecraft Eh, ma questo è Sempre un genere Un po' di nicchia Eh, quello è vero Quello è molto vero Verissimo Ma siamo forti Ma te curi un po' Che sei un po' morto No, possiamo Possiamo Potremmo fare A pure livello 2 Secondo me Eh, te l'ho detto Vabbè Siamo scherzi Fai sti soldi Io di quel cazzo faccio Eh, forse All'accampamento C'era un tizio Ah, a me la Ma se ci dividiamo? No, vabbè No, eh, che fa? Sono scherzi Che hai fatto? Oh, mini boss Mini boss Ah C'aveva il pene portatile Oddio Oddio, che è? Oddio Ho schivato Ecco sì Ah, è finito Ma io non sto trovando Nessun equipaggiamento È normale Ma tu sì? Ho trovato una spada La vuoi? Non mi piace Buttala per terra Si può? Ne ho due di spada Ehm Ma come si fa? C'è ricicla E equipaggia No, ma sa che non Non si può Cazzo, peccato Ci sono scambi da giocatori? Ma penso di sì Eh no, sul diavolo non c'è Ah no? No Ah, butti per terra però Sì Eh Eh, però devo stare la stessa lobby Se io mi unisco A te Tu butti una cosa Che hai trovato prima di me Prima che io entrassi nella tua lobby Non posso prenderla Ah Ti ricordi di sul diavolo Quando abbiamo trovato Una cosa dell'arcobaleno? Mamma mia Tu mi lavori Vabbè, usciamo Eh sì No, c'è un creeper Vado Vado Ok Abbiamo lasciato una cesta indietro Spera, metto la graffetta d'alto Eh, bellina Abbiamo lasciato una cesta indietro, sai? Più elaborata Eh sì Abbiamo lasciato una cesta indietro Eh, prendila Eh, ho capito, è lontana Ma sticcarsi, fra No, a me va Certo Ah beh, è uguale, fra Non è che cambia niente No, vabbè Pizzi Eh, 19 Frecce Eh, io? Ti perdoni un po' Eh sì Come fai a vedermele? Eh, se ti rifianca il nome Io non vedo il tuo nome Ah Con la sua testa F1, cos'è? Ah, ti posso trasportare Oddio Che fa? È tipo il channeling Eccolo No, vabbè, è lontana sta gesto Che pizza Ma dove c'è da? Ah, una testa Eh, io sto tornando indietro Per prenderla No, vuole il corsieri Bisogna prenderli Eh, smessa Perché c'è Ma cosa abbiamo fatto a non vederla? Eh Ma comunque la mappa Non è tutta scoperta Vedi che là Oltre al grigio Non è scoperta Vabbè, non ti fa capire Però Capisci Ah, perché abbiamo ignorato Qua dove c'è l'acqua Ecco perché Non ti fa capire Oddio, lascia La vuoi tu? Vuoi fare il barbaro Ah no No, sta cosa mi puzza Vabbè Vabbè, lascia Ma non c'è Come no? Tu ce l'hai? È qua, sì L'ho presa Eh, io sono sfidicato Fra fro Non ho trovato niente Fra fro Fra fro Mossa, stacco rotante Questa è la mia vita La metto io Ma se può troppare Secondo me In qualche modo Su Se faccio riciclo Che fa? C'è il ciclo? No, ricicla Ah, ti dà soldi No, ti dà i soldi La butta via Bisogna capire Come I drops Eh, noi vediamo L'accampamento Noi vediamo bene Eh, sì Magari l'accampamento Si può Ma andiamo Una parte non esplorata Oppure ce ne freghiamo E andiamo a missione E quando non siamo andati? No Eh, andiamo Eh, vabbè Facciamo esperienza Oddio Importante E vai Non hai messo l'ascia? Sì No, lascia Ui Oddio È col destro la lanci Come si tira? È come Il granale Llevati Oddio 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 Non sai i soldi La mela Mela, mela Ah, vai che c'ho la passiva Che vuoi dire? Oh, segreto Eh, ma io lo vedo Eh, ma io non ho trovato un cazzo Tu che hai trovato? Eh, armatura e cacciatore Ah, io lascio Ho trovato Oddio, guardami Sono tutto fashion Ah, allora Sono condivise Mi hai fatto credere No No, prima Adesso l'ho trovata Ah, forse perché Quella era una chest Non segreta? Non lo so O forse perché eri lontano? Non lo so, Fran Non capisco Bisogna capire Magari se sei lontano Oddio come piotti Posso potenziare? Costa troppo, no No Guarda qua, hai soldo Oh, ma se hai chest Non le prendi? Hai soldi Che cos'è? Oddio Che cazzo hai fatto? Ah, ho premuto Ma ti fai i cazzi tuoi? Che fa? Ah, dungeons Oddio Questa è una missione È un dungeon grosso Eh sì Oddio, oddio Oddio, ah lordi Che è? Lormi Lordi Ah, lordo Ah, fin Ha dato armatura Oddio, rara Questa è forte Eh, io ho trovato l'arco Tipo Perché sono sfigato Eh, lo voglio pure io L'arco Eh no L'arco è di livello 1 Cioè quello che c'ho già Ma non ha senso Ma perché sei così stronzo? Hai capito? A te sei sempre sfigato Oddio, ho finito le frecce Widers Widers Oh, level lines Oh, level lines Ah, funziona allora A cosa che funziona? Eh, guarda Ah, ho il boss Aspetta, c'è un pazzetto qua No, non credo sia un boss Oddio, è la prima volta che ci hai fatti panel dungeon Ma che dici? Oh, c'è Aspetta, mo capiamo Se l'apri tu, che succede? Oh, armatura, easy Prendo Armatura Ah, ok, vedi che è condiviso No, ma secondo me non è condiviso Perché guarda Sulla cosa dice Ha raccolto armatura, ha raccolto Su me non è diviso Come è tutto a culo? Che lusso? Trova e apre il primo forziere di lusso Aspetta, devo mettere l'armatura, boys Ok No, io ce l'ho due più scars Ma fazza che brutta Ma che cazzo? Che fa? Serve salute Serve salute Ok Oddio, si è uscito Ah, short cats Siamo usciti più indietro E guarda, siamo nella strada giusta adesso Ah, ok Ah, carino E vedi, dove c'è il pene Il pene è stato aperto tutto in magico Ma che è questa cesta qua in alto a sinistra? La vedi pure te? No, adesso no Ma perché ho fatto così? No, aspetta Ho fatto così Ah Vedi Ti dice le scorte Ma non è vero Eh, volevi Sono forti le due Eh, si fa forti Oddio, che fa questo? Assalto Che è? Mago mago Aspetta, qua me puzza di segreto Qua me puzza, qua me puzza di segreto, sì E dei mostri segreti Ah, ma di notte stanno diversi i mostri? Ma è sempre stato l'altro? Ah, sì Ah Che è lì? Che è? Oh, c'è una spada Comune La vedi? Io no Forse Mi sono sfigato Non ho capito Ma Ma tu apri le cose e non te dà Non me dà Vedi la mela? No, vabbè È tutta RNG RNG No, non la vedo È tutta RNG Oddio, ci sta però Sì, ci sta Ma porco Dio Cioè, nel senso Eh, ho capito Fammi trovare qualcosa No Eh, vabbè Ah, sono tornato un camporello Aspettami Aspettami Forse la roba si droppa con Q No, non c'è la Q La Q è così La Q è no Aspetta, Q No, non fa Vado il consiglio Vedo tanti sgredi qui Sì Quante creeper? Oddio, oddio, oddio No, volevo vedere se si scoppiassa Se si scoppiassa Ah, questo è secondario Eh, vabbè Non ho fatto niente Vai E non c'è nessun nemico Ah, ebbè Penso che sì Pensi che sì Ah, sono soldo Ma guarda che c'ho Che? Sono soldato di velo Rapido Ah, che difficile Oh, oh Segreto 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 Ma perché sudo? Ma che forti? Che segreto hai fatto? Dov'è? Eh, lì Prospettore Rallenta le caricature Dopo averle colpite Trovi più smeraldi Nel nemici Va bene Ah, ho le frecce Dove le ho prese? Perché se lo so te Eh, non lo so Vedo cosa è strana Ma che è che fa su? Eh, sono i piselli sotto Ah C'è una città Ti vuoi mandare tu? Ne so Io me ficco negli anfratti Buono l'arco Oh, ma perché sei scossoso adesso? È perché La passiva Di salute Però Non ho punti Ma me la dai anche a me quella passiva? Perché anche io faccio le scosse? Fare? Palle? Ah, no No, sei sudato e basta Non so perché sudi Ah, perché è pesante l'armatura Me sa Ah, puddassi Te consuma la stamina E dove è la stamina? Forse stiamo facendo troppo evidente Ma pure secondo te Eh, me Qui? Ma c'è la mia gemma La gemma blu Ah, ora ho sciotto So forte Guarda che potenza Oddio Che? Ma che cazzo le manano? Ma che ne so In campoggio No, qua ci siamo già sali Ah, sì, sì Vedi, è giallo Giallo? C'è giallo, è... Vabbè, mi sono capito io Quello è l'importante Vabbè, esageri Eh, devono morire tutti Ah, ho capito Anche le mucche Siamo qua Siamo arrivati Dici? Mi viene da buttarmi sotto Villager Villager? Che è villager? A dungeon Oddio, no, voglio farlo Aspetta Vieni qua Cos'è? Clicca uno Cliccò? Eh Ah, sì? Aspetta, aspetta Pronto? L'hai in mezzo Vai Vai Vabbè Che schivo Che schivo Ah, minchia Che range ha? Dungeons Oh, scuola Panino Panino Ah, questa non era in condivise No, no, io l'ho presa Eh, io le frecce no Ah, tutto qui Oddio la porta Oddio Io non capisco Che fa condivise Non capisco, sa? No, i rani Che schifo No, no, ma che Mi sborano in bocca Ma che è oh Ma che schifo Guarda, eh, guarda Ho trovato un'armatura Armatura Che è il bago Che schifo Che schifo No, no, mi fa troppo schifo sta cosa No, no, no Vabbè, sono piacevoli Anche una cesta Armatura Non merito Vengo? Sì, ma c'è un'armatura Aspetta, è pieno di soldi A me la spada Ah, comune, è uno Schifo Aspetta, è della Magari c'è un'altra Guarda qua Ma c'è un'armatura? Sì Sì Ma che sudo Non sto capito Ma tu ho il personaggio Il personaggio Oh, ma io ho una cosa È il goblin È il goblin Che si Ho raccolto Ar di tutto Che è? Ho raccolto una spada Un Nascia leggendaria Cazzo dici Eh sì Arancio Unico Ar di tutto Brucia le creature E mossa attaccortante Vabbè, io sculo Ma non mi hai detto che sei stronzo Io sculo Ehi, tu sculi, porco Due Aspetta Libere gli abitanti A mission Oh, ma sono castrato Aiuto Sono le TNT, eh Vabbè, ci dividiamoci a questo punto Eh, vabbè È ducazzuato Tu sei andato Non so Un po' strano Nooo Hai pensato a vedere l'arco Oddio, pure io Oh, no Ma tu c'hai Ma che dà C'ha l'effetto Unico Aspetta Fammi vedere sulla live Aspetta Voglio dire Voglio vedere che c'è scritto Dove? Nella tua ascia Eh, non Dice Brucia le creature Mi dice No, l'arancione Hai detto che è unico, no? Ah, unico si chiama, sì Fare, fare Qua Vabbè Eccoli Fare, fare Mi ha fatto vedere Eh, no Io no Aspetta È veloce Ecco Qua Ah, ok È forte, eh Brucia le creature Sì, è C'ha le È il fuoco Dell'inferno Tu c'hai un culo Che spaziale Eh, io So spaziale Sono spaziali Gonda Mandati Cosa è quella luce Infezionale Oh, chest Apri un attimo Aperta Ma che è? Armatura del lupo Ah, lupo What the fuck Lupo lucio Allora, ti pensi che ti danni l'arma? Oh, non salgo più Sta qua Non salgo più C'ho l'armatura del lupo, guardami È lupo? Cos'è? Oddio, bella Sì, ma non è rara Hai ucciso uno dietro C'è te mani È l'ultimo questo Fatto Cos'è? Figo Carretto Oh, ma mi piace anche esteticamente, sa? No, vabbè, esteticamente si è Minecraft Vabbè, insomma Se Minecraft avesse tutta sta vegetazione e cose Sarebbe un altro gioco Ma perché suda? Guarda, sudo È perché Ravida Ma ti coro anche a te? Ah, quando fai la rotolata Ma perché non mi ascolti quando parlo? Che? Io parlo col muro No, io parlo con te Te l'ho detto prima Che se fai la rotolata È la rotolata È la rotolata Ragno Sì, ma mi stanno sul cazzo Sti ragni Porcottine Ah, aspetta Ti pizzicano Oh, c'è Ti sborano Eh, sì Sono un po' Aspetta, aspetta, aspetta Strada Dove? Eh, cassetto Ah, perché non mi fai sporare? Eh, mi fai sporare La panoramica Ma appizzicata Dove devi avere la panoramica Che poi sono belle e lunghe le Le mappe? Sì, per essere la prima Ci stanno Ci stanno Speriamoci che ci sia un bel endgame Sto giorno Vabbè, ma secondo me lo aggiorneranno Pieno piano Se fa successo perché no Ma devi vedere sempre se fa successo o no Beh, ma secondo me sì Eh, secondo te Ma che fa questo qua dietro? Ma che fa? Ma è spia Pidofilo Oh, un arco Finalmente Mi sono incastrato Ah, ma è un arco brutto 11-26 Ah, pezzicolo Ma questi se ne vanno Ah, ce l'ho già di base Ho notato Ho notato Sì Se tu trovi qualcosa Tipo armatura Archistica Se fai il frame di tab Come sul diablo Ti illumina la mappa Cioè, ti dice che là c'è l'uniquaggiamento Ah, sì, sì Ti dà il flash Che è questo? Zicacolo Porta lui Vabbè, qua ci vuole A fuga dalla foresta di creeper Nuovo obiettivo Level up Altate, a me pompo È certo, io faccio il lavoro sporco Danni bonus Sì, sì, sì Allora Aspetta, è tutta l'altra strada? No, aspetta Voglio vedere l'altra strada Questa è quella giusta Allora, se c'è aggiornata la mission Aumento i controi non morti Sì, vai A danni Danni a go-go Danni a go-go No, no, no Ho cambiato strada E quella è la strada giusta Giusto andata? È della Perché? È perché quella è la strada giusta Lì si esce Manca tutto qui Scusami Scusami Ah Vabbè, faccio così Aspetta, provo sta cosa F1 Eh sì Recall Ecco 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 Ma infinito? Cosa? È il tp Sì Ah È comoda sta cosa rispetto a Diablo C'è anche su Diablo? Sì, sì, c'è, c'è, c'è C'è, c'è, c'è C'è, c'è, c'è Vabbè E lo sai che c'è Sì, sì Vabbè, succede A volte ti sveglia la mattina e dici sì Oh, ma siamo un po' forti, eh Eh sì, sì Vabbè Forse è anche la difficoltà che fa un po' cagare La prossima volta mettiamo un po' più alto Eh no, vabbè, era per vedere com'è Eh sì, abbiamo capito e sappiamo Tutto qualcosa di là? Come so Ti senti solo? Ma ogni, che palle, ogni volta ti dice se te senti solo No In che senso di senti solo? È un peccato Oh, c'è Arco di merda Però forse è meglio No, no Te lo dici quando è meglio Ti senti in su Cioè, a me a me è così Sì, sì Qualcosa? Io voglio vedere sti cazzo di gemme alla fine che cazzo ci fai Eh, sono soldi Sono veramente curioso Capito, sono soldi, l'ho capito Capito, capisci Vabbè, è finito, andiamo Eh, sì Io sono lento, però Lo sai che devono fare le mount? Eh, ma forse ci sono Vabbè, in Minecraft c'è la sella sul cavallo È l'abc, dici? È l'abc Ma è sempre... Vabbè, della Mojan stessi Eh, sì Giustamente Sempre loro Ah, non c'è più Da Mojan c'è Cos'è? Cos'è? Eh, scimite Vabbè E tira tutto per sicurità Ma forse pensare? Ah, non c'è la chat vocale? Sì No Quello proprio vocale testuale Cosa R? Ah, no 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 Vabbè Ma forse invio? Oh, attento Attento il buco Oh, Netherworld Portman Oh Oh, ma che è? Eh, io sono forte, aspetta Non ti preoccupare C'hai la cosa cosa Ragazzi Trinta e da anno fa Eccoci, eccoci All'amico Ah, vieni, finito Questi abitanti sono liberi Dalle grinfie degli abbritori Oh, grazie a te Ah, grazie a te Cos'è? Ah, ma fa Vedere Se si può Pizzicare l'appetito Andiamo un po' Ah, chest Allora, abbiamo fatto 41 cure Sette Ah, non l'ho fatto Cassa aperta 100% Wow Ah, ok Fungo cappello della morte Ma che è? Ho trovato un fungo cappello Ah, quando l'uso Mi funchizzo Ma posso droppar qui, tipo No, c'è solo un ricicla Cioè, i soldi Vedi? Questo è il fabbro Ah, chest Ah, smeraldi Riscatta Ah, vedi Equipaggiamento casuale Scambio per 80 Provo No, no Questa è quella Di diavolo Che devi fare casuale Sì Armatura da mercenario Oh, buona Appunto Non l'ho avuto culo Ah, no Fa schifo Riprovo Ma c'è solo lui Eh, per adesso sì Forse li sbruchiamo Cos'è qua? E' qui? Arrivo? Dungeon? Ah, è casa nostra Ma che si fa? Si scopa? Ma che serve? Ah, forse qua dentro Ci saranno le varie persone Che vendono Tipo i mercanti Non lo so Crafting Crafto Ma forse si può craftare No, no Non c'è crafting Ah, non c'è? Che ne sai? Eh, lo so L'hai confermato 100% Vabbè, reciclo Voglio Ma è tutto? Eh sì Non è Un cazzo Io lo faccio affinché Ma io ci riprovo Però mi sa che Da solo roba di livello 1 Dici Eh no Ma come è di questo? Ah, aspetta C'è un punto Ah, si può mettere Ok Potenza 4 Provo Ah Piccozzo Livello 6 6 danni Ma non si può Troppa No Ah, scusa Amici Amici Wither No Cos'è? Eh, non mi piace Che non si può Oh, guarda i dodger È dodger? Guarda i dodger Oddio, è dodger Scambio Spada Oh, questa è buona Vabbè, me l'avevo appena potenziata Questa, che scemo Vabbè, io faccio l'infinito Riciclo Ah Ho capito Wither Se ricicli qualcosa Che ha un punto incantamento Te lo ridà Ah, sì È buona sta cosa, eh Dio, mi spavento Il 20% danni aumentati nel corpo a distanza Più uno danni Un altro Non si può Ah, solo uno Ok, ok Oh, mi sta a piacere un botto Io vi consiglio, ragazzi Tra l'altro Che adesso metto una tua mente C'è l'Xbox Game Pass Ad un euro Per questo periodo Quindi Se siete interessati a provarlo Per un mese Fate il Game Pass su PC Con un euro È vostro Inoltre è uscito anche su PS4 Xbox One Nintendo Switch Quindi Scelta Ah, vedi che c'ho Sto cerchietto intorno No Withers Cosa Vedi il cerchietto che c'ho Eh, eh Faccio male soltanto toccandoli adesso Se faccio così Faccio male Ma Forte, eh Crasosa Ma non si può droppare Aspetta Impostazioni Tasti Notamente in avanti Detasporto Detasporto verso amico 1 Amico 2 Amico 3 Menu di pausa Rotellina chat Menu amici Mappa completa Overlay Mappa Apre inventario No, mi sa che non si può proprio droppare C'è un'altra missione? Dai, facciamo l'ultima Sì, sì Vai Ah, abbiamo scelta adesso Oh, la crypt è inquietante Penso che sia quella di storia Vabbè, noi continuiamo con la storia Difficoltà normale Avventura Sconfiggi l'archer cipitore È normale Ah, vedi se sblocca un dopo Endgame E noi dobbiamo andare Crypt è inquietante, faccio Questa squadra? 4 5 Senza consigliata? 10 Vabbè, facciamo qua questa Rilascia i pivoggiamenti Sconosciuti Vado C'è stai? Che stai a fa? Wither È morto È morto È morto Wither Pronto E niente Aspè Ok, ok, ok Da via C'è Oh Agripta È il minimo Non si poteva di meno È del nostro equipaggiamento È del livello successivo È del storia, sì Ah, perché ci sono altre missioni? Eh, tante Ah, guarda È dove eravamo prima Lì Ah Ah, cazzo Picchio Guarda Guarda Aspetta Non picchiarli Se ne vedi pochi Voglio capire quanto male fa Sto cerchietto Ah, oddio Non è male Se mi si avvicinano Cazzo Somma Somma tu Oddio, oddio, oddio Vabbè Ma io ho sciotto tutti qua Guarda Sono forte Che fa? Eh, vabbè Mi ammazza a me È sempre io Deve che ti succedo Dove sta No, ci sono stato Che cos'è? Ci sono stato lì E qua cado? Oddio, è morto Ha il totem Ma che succede quando muori? Eh, ti fa il totem Aspetta, dove va? C'è la tastata qui Dove va? Andati qua No, è lì, è giusto Se segui la frecetta È giusto lì Oddio, ho scudo? Oddio, oddio, oddio Ho tirato la drappola Oddio, oddio, oddio Ho fatto casino Ho fatto casino Allora, guarda che droppo io No, questo è grosso Allora, vedo il chiuso troppo Sì Oh, c'è Oh, che mazza Quanta roba Ho le frecce Sì, che ne ho poche Ah, vabbè che sono individuali Che vuol dire? È che sono Comunque ci sono I segreti della diavolo Se clicchetti in giro Sulle cose A volte si attivano Se clicchetti Sì Io tipo ho clicchettato questo Lo scudino qua E si è attivato la trappola Non ti vuoi curare Che stai a morire Ah, già Guarda, guarda Di nuovo L'ho fatto Le clicchetti, clicchetti Eh, ci danno Le drops Ma a te Ma pure a te Mi sono sfigato Eh, ho capito Eccola Ah, fai tu? Non ho dato niente Non ti ho dato niente Ma perché? Perché ci sono io Vabbè, vicino a te Che vuol dire? Che ti porto sfiga Anche a me? No, ma non puoi Ah, ma qui dobbiamo andare Il Krypton No Ah, sì Ah, vabbè, sì Il luogo è questo Però noi abbiamo fatto Una strada diversa Beh Se vedi ce li dice Tu andai indietro Sburro Oh, c'è Ah, vedi? La pozione Ah, ma tu non le vedi? Non le ho preso No, non le vedo Ma le hai prese? Cioè, ce l'avevi qualcosa tu? No Ma perché? Te l'ho detto che sei RNG Ah Perché ho bevuto per sbaglio Vabbè, ci sta Soldo Vedi che servono i soldi? Che hai fatto? Che hai fatto? Io tocco È frio, io tocco Ma di quanti sono? Oddio, sono tanti No Sì, ma sono scarsi Dovevo mettere la difficoltà più alta Che è sto Stamfora qua? Sicuramente più difficoltà alta Più c'è ricompensa Secondo me Eh sì, lo dice Eccola Che fa? Icone Trovato l'armatura e cacciatore È più deriva Cozza lì Nove Fa ancora più danno della mia Mi ha detto fa schifo Mi ha detto Mi ha detto fa schifo Non è fatto niente No Ma qua? Qua abbiamo fatto No E' c'è qui Ok È andato Sbusu Che hai fatto? È quello che hai fatto tu prima Madonna, ma quanto sono grosse Quelle freccette Come il mio cane Cane? Oh Vado un piccozzo Ah pure te Vedi? Fa morire Eh capito Non te curi mai Eh me curi Oh piccozzo di luogo 4 Easy Lo prendo E io ne avevo uno 7 Spada 7 Spada? Al 7 5 Perfetto Ah buona Vedivi? Ti porto fortuna Lo devo aprire io Che? Eh vabbè No Il blocco Ok Ah tanto Eh Posso tornare indietro Aspetta Aspetta Vado Pro Sto potenziando Aspetta Ah ok Ah sto salendo Vabbè comincio ad andare Tanto c'è il TP Per lunga la strada qui Per tona In Cambogia Ok Sono andato Ah non era tanto lunga Ma perché pareva lunga? Perché tanto abbiamo il boost Ah il boost C'è il scarpetto Io no Ah no? No no Ah si è spento Guarda si spegne Perché c'ho la cesta io qui Guarda Si è bugato Vedo la cesta qui Eh ma è aperta No è da me chiusa Non me la faceva aprire Easy Ah easy Ah mo aspetta Quale è stata giusta? Così io prendo quella non giusta Da sotto Giustamente Soldo Tocca tocca Ah che tocco? Chi hai toccato? Forza musica fantasma È quello che hai toccato tu prima Ah il boost boost Fa morire Ma come fai a morire? Magari so Ah C'è stai Spada più l'infetti Io rimango Tanto? Sei io Sono pericolosi Che fai io Non ho più frecce Stix Eh capito Le usi tutte Eppure tu No 150 Sono più furbo Ehi quanti creeper qui Sono morto Sono mica morto Arianima Oddio Ho diventato tutto stanno Withers Ho paura La notte ti colperò Fra 30 secondi Aiuto Aiuto E ho capito Veloce Curo Curo Oddio Fa 20 secondi Muoiamo Ok Non ti muovi Ah c'è il penne in test Oddio ma quanto sono grosse Le mappe Ma sono grossissime Più di diablo No Sì Sì Decisamente più grosse Sì Ma che fai se Dove non mi blocco Con gli angoli Perché Cioè è isometrico Però è strano Non ti fa capire La prospettiva Che è? Che è? Si Budi budi Eh Dobbiamo andare A quella giusta Eh per fo Oddio 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 Tu sei impazzito È partita Qua ci sono andate Ah Ah suoi soldi Medicini Apri i soldi Un medici Oddio Sudo Oddio È stupido Ho capito Non vedevo Ok ok caschi Guarda guarda che forza disumana Mamma mia Oh che è sto drago Ah crolla Ma è partita Ma non ci sono i boss Sta cosa mi puzza Eh ho capito Bisogna vedere Aspetta Qua c'è strada enorme Qua c'è il boss Della storia Cioè Ho capito Vabbè ma credo che ci sia Una boss Fatti in sto dungeon Oh livello 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 Ho soldo Eh sì Vai vai Qua qua Ok Oddio 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 Manco l'uccino No 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 Porco La bomba la bomba Bombi Bombi Che fa Ma non funziona quella cosa È buggata No funziona A me no Vedi È perché deve essere Stretto Vuoi dire Ma c'è una chest Particolare Dall'altra parte del pianeta Mazza quanto è grosso qui Madonna si Cos'è qua Mori intanto Tu mori Occhio Eh l'ho visto Niente Niente Amico Io non ho frecce Sta cosa mi tilta E non le trovi? No Non ho lisciato tutto Aiuto fuoco Che è? Pokémon Appizzicato Niente Nato Ma i soldi Ma i dei di Eh che nero non li vedo Io li prendo ma non li vedo Cioè li prendo Vabbè capito Attenziamo Eccoli Esplodo tutto eh Che te lo dico T'avviso Guardate Fa build arco Cioè è potentissima Mentre Mi hai raffredd Allora No Parti Particiello Particiello Aia Tornata Beccia Eh Boh Piccchia piccchia E sei tu Oddio Cosa ne pensa per il momento Carino Per chillare è perfetto Ehi quanti sold E non trovo Ah cazzo Questa è potentissima E pure la spada 11 Eh si dice addio Si dice addio Indebolimento Vai Ma anche l'armatura Scorte di cibo Esploratore Saluto Cos'è Ah per forza Vado Che figata esploratore Mi cura da solo Ogni tot Ragazzo si vanno Ma capisco sta mappa E' un po' incasinata La minimappa Questo lo devo dire Quando ci sono due strade vicine Non si capisce benissimo O sbaglio Vabbè Lui sparisce ogni tanto Così Vado Ragazzi appena finiamo sto dungeon Concludiamo Che fa? Oh Soldo Do Oh Te va Schiva Spesso Oh ma sto esploratore E' fortissimo Ah Vedete Mi sa che c'è il boss Qui E' grosso Ah no Vedete c'è il boss Che cos'è? Ah niente Non ho capito Qui E' niente No che boss Oh che è? C'ho fatto? Potete vedere c'ho fatto? Potrebbe essere molto pericoloso Oddio 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 3000 E quindi? Ah c'è un sopravvessuto C'è un problema Che vuol dire? Che tra un po' mi inizia La lezione Ah fa quanto? Eeeh 10 minuti Ah ok Vediamo se finisce veloce Ehi il cazzo Guarda la mappa Grossina Mi sa che ti devo abbandonare Ah vabbè tranquillo Vabbè comunque ci sta Ci sta Ci sta Nel caso Lo riportiamo Nei prossimi giorni Perché mi piace Mi piace Sì Vabbè dai Un buon proseguimento Eh sì Eh sì Ciao ciao Aspetta non sto a capire Le strade Ok Anzi ci lo finiamo In solitario Di quante strade però Ah aspettate Questa è la strada giusta Quindi vado prima di là Che vedo che non è Troppo Troppo Grossa Così Speriamo tutto Molto bene Ah ma c'è un po' Di automira Noto Anche se non miri Preciso Preciso Va Vabbè ma sopili Le abilità Però eh Sono molto forti Arboton Picchiari picchiari Ok penso che il gioco Si sia riadattato Al giocatore singolo Buono anche questa Come esperimento La fa Ok Importante La sapere Ma addirittura Ma addirittura Guardi i soldini Mi spiaccisc Ok io vorrei andare De là Adesso Quindi devo andare Questa strada In debolimento Abbiamo notato Che è fortissimo Forse un po' Troppo Le abilità Forti Sapete Perché è veramente Difficile Farsi Fa danni Ok confermo C'è un minimo Di Di Automira La senti Perla Guarda cura tantissimo Esploratore Fa Ah è maiale Ok Ma di lì c'è una chest Qui non c'è niente Non sto trovando segreti In sta app Ah invece si Questo Ah è stato Semplice Ah c'è un sacco di frecce Facciamo ad usarle Che sono comodissime Spada Guarda qua Si torna Indietro Ok possiamo andare Verso la strada normale Supilupipupalupi Supilupipupalupo Supilupipiparababee Guarda là che Lo so Dimenticato Indietro Però non ci tornerò Tanto su due Spiccioli In più Allora io posso Andare di qua Qui da qui Posso andare Qui Ma so Rispondate O non li ho mai uccisi Bisogna capirla Sta cosa Arriva Normale Allora lui dice Di andar di là Ma io Puzzenia Puzzenia E lui dice Andare di là Quindi io vado De qua Ok La stabilità È comodissima Quindi sono quelle Le abilità Praticamente Perché Noto che sono Infinite Non so se hanno Degli utilizzi No Addirittura È di là Ah lì è una strada Già esplorata Ok Dove capire Come funziona Sta Mappa Oddio Mi sono afficcato Dove è più grosso De me Scusate Ok 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 Oh ya signo Vieni Si infiammano Facilmente Allora Di là è la strada Giusta Quindi io Prenderei un attimo Questa via Prima Ok Aiuto Aiuto Ok Hold on Andiamo Ah questa è la strada Giusta Ok Stiamo andando Verso la strada Giusta Orca Cazzo Chia Allora Andiamo Prima di qua Questo Questo pezzetto Qui Quanti sono La dieta Ok Mi può un po' Mi può un po' Allora Allora Vado prima di qua Che vicolo cieco Ci ce lo togliamo Dai pensieri Un attacco Con la spadina La frecce Ma Sbaglio Ho aumentato Tantissimo Il drop rate Perché non siamo più in due O è una mia impressione Perché potrebbe essere Che c'è qualche bug Eh Potrebbe tranquillamente Essere Ok Qua non c'è niente Va bene Allora Adesso andiamo Di là Quindi devo fare Così 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 E così Ok Tanto per fortuna Segna sempre Dove è la strada giusta Andiamo un po' Di maniere Forti O livellino La prendo tutto Nada Ok Mazza Sono veramente Grossi dungeon Non ho mai visto Un gioco di questo tipo Con dungeon così Ampi Soprattutto all'inizio Ricordiamoci che siamo Al vero primo dungeon Del gioco Interessante Cosa Cosa Oh come c'è Mettivo gruzzo Ok Poi Oh che c'è Il dodger Ok Qui non c'è Nada L'operatore Dovrebbe curarci Ad una certa Ma lì vedo Una chest Ah ho capito Sono Due diversi Anche ha 8 Buona Eh no La mia è 11 Sione La mia c'è 11 Molto meglio Ok Ma con queste Non si può interagire Oddio Armaturina Che è mino Ah te lo dice La sua Sapete che Non ci ho mai Fatto caso Ok Qua abbiamo Esplorato tutto Vedo che c'è Però un'altra strada Lassù Ma non capisco Se sia quella giusta Oppure no Perché lui ci segnava Un'altra strada Prima per andare avanti Ma non esplorando Si viaggia Abbastanza bene Surtutto Si fa funghizzato Friotta Credo che lui Dice andare di là Ok Ci sta un pochino Ad esplodere Bisogna lanciarla Preventivamente Comunque per il momento Oddio Chiuso E' pure di là Qua bisogna capire Dobbiamo tornare indietro Perché magari Oddio Dove sei uscito Secondo me Abbiamo saltato Qualcosa qua Ah vedi Cambiato obiettivo Obiettivamente Chi apri lì Se volessi aprire i lati Oddio Oh gli zombie Non sono affatto Un problema L'unica cosa Che fanno Danno Sono Questi qua E gli scheletri Perché ti possono Attaccare a distanza E i creepers E i creepers Te beccano Per il momento Non è molto difficile Ah vedi che Mo si è aperto Intuito Non ha sbagliato Mai Adesso Un po' Tantini Un po' Fuoco rapido Ci aiuta Maia Ok Frecce Buone Non fanno Mai male Ok Un po' Un po' Scomodo L'adattamento Della visuale Agli ostacoli Perché non è istantaneo Vedete Tipo qua Non Non si vede Una cippa Posso andare Invece No Facciamo il funghetto Così corriamo un po' Non c'è nada Un po' A terra Così Non c'è niente Ok E ho provato Continuare Lassù Poi Ho provato Continuare Di qua Però Se ne aveva Anche un'altra strada Là sotto Che abbiamo Ignorato Ma questo Mi sa Di fine Pazza Quante È il bottino Di fine Dungeon Questo Dai È chiaro È chiarissimo Abbandona i sotterranei Oddio 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 Si possono fare Belle combo Alternando Spade Arco Ok A 13 Questa è migliore Questa è migliore E li possiamo dare Come enchant Gelo Tonante Quattro danni Eh No Lui dice Andati qua Eh si Perché la strada Era lì sotto Ok Ah forse Stavamo sbagliando Strada Prima Per fortuna Che ho seguito Il mio intuito Per fortuna Spizzicato All goblins Molto bene Dove ha dato? Ah 6 Fa schivo Ma qua è una doppia strada Che porta allo stesso punto Quindi Facciamo un giro completo E poi torniamo di qua E vedi che c'era qualcosa? Oh tonante Mi pare forte E c'è Easy Allora Qua abbiamo esplorato tutto Possiamo continuare Ammazza Ce n'è ancora da esplorare qui Eh Boom Le TNT Non le vedo così utili Per il momento Perché Fa un botto Che è un pochino più grande Di quello normale Ah ok Quella è l'uscita Però di qua Continua Depende Sbagliato Pizza Pizza Mi scordo Ma qui non c'è niente Questo è il vicolo cieco Mi servebbe un arco Un pochino migliore Questo non è eccezionale Non è proprio eccezionale Dove sei uscito Amico Ok C'è una sola strada Per una volta Fortuna Ah non si è ancora caricato Ok Volo cieco E non c'è niente Ah ok Un piccolo pezzettino Adesso provare Pensavo fosse un pochino più grande Per fortuna Per fortuna Così Possiamo concludere Vedere se c'è una boss fight Se c'è qualcosa Perché mi dispiacerebbe Se non ci sono boss fight Come ha detto Weaver prima Sarebbe un peccato Ma pure mob Più forte del normale Cioè non è chissà che Penso che i mob di minecraft Non sono tanti però Ok E di qua Prima qui Piccolo piccolo C'è un Qua non c'è nada C'è un pochino Le pozioni Dai 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 Resto Molto bene Forse abbiamo l'arco migliore Eh direi Oh Finalmente Tu rimbalza Per cavolo Come costa troppo Aspettate Riciclo questo Così mi rida il punto Ok Ottima sta cosa Che riciclare Ti rida i punti Ottima Ottima Ok Ok Non c'è più nada Stiamo velocemente indietro La mappa è aperta Vabbè che ci segna dove andare Insomma Ci segna A modo suo C'è prova C'è prova Ok siamo arrivati Puro Sicurezza E vediamo se c'è una boss fight Però dice abbandona Secondo me è proprio l'uscita Questa Eh Per il momento non abbiamo trovato Manco una boss fight E questo È un po' male Secondo me Un pochino No lui dice Andrà dell'A Oh il dungeon È veramente infiniti Le missioni Pensavo Mi riportasse a casa subito Aha Spada Undici Ma quella mia fa tredici Ma proviamo Completarlo Velocemente possibile Ok Adesso Sproviamo qui poi Tiriamo un po' dritto Per la strada normale E niente Qui Nada Ok Ma cos'è più grande? Noi dobbiamo andare Lì Allora è molto più grande Del previsto Ancora Oh facciamo una cosa Ci rimettiamo Andiamo un attimo A vedere una cosa Seguiamo questo pezzettino qui Ah il rimbalzo È vero Cazzo è comodo che rimbalza così Ah ok Forse sono proprio Strade Non secondarie Di più Le altre Però forse possiamo Finirlo Tutto non c'è Vedo Dobbiamo andare di qua Vedete cosa c'è Mucca Mucca è un creeper C'è Basta? Manco segreto? Ok Sì sì È una strada dritta Per di là Ok Allora lo concludiamo Direttamente Il dungeon Le dande sono molto buone Molto buone Quella miseria Quanta roba Ok Ragnazzo È abbastanza OP Attaccare con l'arco Sapete? Spodere Ah ma noi di qua Ci siamo già passati Io me lo ricordo Sto pezzo O sbaglio? Eh sì Vittoria Ok Fine missione Ragazzi Tempo che ci riporta L'accampamento E possiamo Salutarci Viaggio verso menu Se vi connette Si è servizi Vabbè Niente Ci ha disconnesso Lo stesso Ragazzi Io vi ringrazio Se siete stati qui con me Anche per questo episodio Di prima impressione Di recensione Adesso in questi giorni Continuerò a provarlo Poi ci scriverò Una recensione effettiva Sul Su Sulla Crisi game community E Niente Noi ci rivediamo In una prossima live Un prossimo video Quindi Da A ThePenet96 E' tutto Ciao a tutti Sulla Sulla Grazie per la visione!